I'm sitting eyes wide open and I got one thing stuck in my mind Wondering if I died so a bullet or just lost the love of my life Oh, baby, baby, I feel crazy up all night, all night and everything Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video Oggi voglio proporvi un trucco sexy per San Valentino Già ho realizzato il tutorial al trucco romantico per San Valentino Andate a vederlo se non l'avete ancora visto E ora iniziamo subito con questo make up Come primo step applico il fondotinta di MAC Pro Longwear Mischiandolo a un pochino di crema idratante Io uso la Hydro Revolution della Pupa Come vedete metto un pochino di crema sulle mani E poi un po' di fondotinta E mischio le due cose uso questo tipo di crema trucchetto di mischiare il fondotinta e la crema per renderlo meno pesante. In questo modo risparmia anche un po' di prodotto e sinceramente io non sento la necessità di metterlo puro sulla pelle perché almeno che si tratti proprio di alcune zone che hanno bisogno di un pochino più di coprenza come questa zona qui dove ho dei rossori e dei brufoletti, ma per il resto sinceramente mi basta creare questa sorta di crema colorata o comunque rendere il fondotinta più leggero. Successivamente sistemo le sopracciglia e lo faccio utilizzando la matita High Definition Eyebrow Pencil del Pupa. Questa è la numero 002 poi prendo la palette Daily Mood di Mulac, scelgo il colore marroncino più chiaro e inizio a sfumarlo nella palpebra nella parte esterna, poi aggiungo un pizzico del marroncino barra terra e vado molto verso l'esterno o il pennello di modo da dare l'effetto più occhio ed adatta e infine prendo il marroncino più scuro di tutti e do un po' di definizione riprendo il colore terra bruciata e lo sfumo nella parte alta si crea proprio una bella sfumatura. Poi ho bisogno di un color panna, questo è Foxy della Naked 2 di Urban Decay e lo applico internamente prendo poi questo colore super brillante di Mulac e lo applico nel punto luce e poi piego le ciglia però voglio mettere anche un tocco di eyeliner applico il mascara Gentleman di Mulac applico le ciglia finte, queste sono di NYX questo io non uso la Duo, ma uso una colla senza l'appisce, questa è della Revlon apposso con la ciglia finta, appiego la pinzetta e la sistemi bene, a questo punto correggo le occhiaie metto il mascara anche sotto e poi fisse tutto con la ciglia passiamo all'incarnato, prendo la palette Contouring & Strobing di Pupa prendo i due marroncini e faccio un po' di contouring soprattutto voglio scaldare un pochino l'incarnato poi prendo la maglietta Diego Della Palma numero 82 rossa e inizio a contornare il contorno delle labbra poi prendo la Sephora Lip Stain numero 01 Always Red e riempio il tutto questo è un rossetto liquido che diventa opaco e poi non si appiccica quindi anche se baciate qualcuno non appiccicerete il rossetto addosso sulle guance applico Melba di MAC se ne mettete troppo potete sfumare un pochettino con la vostra spugnetta o con un po' di cipria infine prendo un illuminante di Pupa questo è Highlighter Stay Gold era penso di una collezione ed è bellissimo però diciamo che ripropongono spesso dei colori così quindi se cercate nelle collezioni li trovate sicuramente vado direttamente con il dito guardate quanto è luminoso anche troppo e questo è il look finito spero che vi piaccia fatemi sapere cosa ne pensate in un commentino per quanto riguarda i capelli se vi piacciono come li ho fatti con queste leggere onde ho usato questo ferro dell'Agressistible Me Suffer vi faccio vedere anche il video in cui lo provo e ve ne parlo magari ve lo metto nell'info box e niente, ricordatevi di aggiungermi su Instagram e degli altri social trovate tutti i link nell'info box ci vediamo alla prossima, ciao! ciao 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 ciao